3Fiction è una mostra che racconta attraverso oltre 100 opere la storia della fotografia visionaria dagli anni 70 fino a oggi. Per fotografia visionaria intendiamo una fotografia che non vuole raccontare la realtà ma in qualche modo parte dalla realtà per reinventarla e allora è una fotografia che ci fa vedere scene assolutamente inimmaginabili che però per l'appunto proprio perché oggi costruendo degli autentici set oppure lavorando con Photoshop oggi i fotografi possono fare anche questo. Allora questo è raccontato attraverso immagini iconiche di personaggi al centro della scena artista contemporanea, penso a Jeff Wall, penso a Sid Scherner, Samuel Fosso, John Shakespeare ma anche gli autori meno noti o che comunque hanno contribuito in maniera decisiva all'affermazione negli anni 80 di questa tendenza ed essi sono soprattutto americani e anche a tutte quelle che sono le varianti contemporanee del tempo. Una mostra nella quale davvero si può vedere il mondo rovesciato, il mondo dal quale nascono cascate dagli edifici di una periferia giapponese ma nel quale si trovano anche delle riflessioni importanti sul nostro modo di guardare.